Si parlava prima del doppiaggio che chiaramente è cambiato, come sono cambiati i tempi, se dipendesse da te cosa vorresti per il doppiaggio di oggi? È duro rispondere a questa domanda, però devo dire che ci sono tantissime cose che in questo momento non stanno andando bene nel nostro settore, purtroppo. Quindi io vorrei che tornasse a brillare il settore del doppiaggio come qualche anno fa, vorrei che ci fosse più tempo per poter fare le cose meglio, vorrei che ci fosse più spazio alle persone che vogliono davvero imparare e più meritocrazia anche in questo senso rispetto anche ai tanti casi che ci sono di raccomandazioni piuttosto che conoscenze, piuttosto che i talent per esempio che sono una cosa buona per il nostro settore perché comunque magari portano al cinema più persone, però d'altra parte anche tolgono qualcosa a noi doppiatori spesso facendo poi un lavoro alla fine viene anche criticato molto dallo stesso pubblico, quindi la nostra situazione è anche un po' strana contrattualmente perché il nostro contratto è scaduto, stiamo facendo mille riunioni con la controparte, con la committenza, con le società di doppiaggio mediatrici per cercare di riuscire ad avere i mezzi tutti quanti per fare dei lavori migliori, chiaramente cercando di combattere questa crisi totale che c'è anche nel nostro settore, ti dico il settore cinema, quindi io spero che si riesca a trovare un modo per firmare un nuovo contratto che preveda anche l'innalzamento della qualità proprio di questo lavoro, quindi con più tempo a disposizione, so che può sembrare anche un po' utopistico così era una volta infatti così era una volta, però così non è più perché non ci sono più i mezzi, non ci sono più i fondi, non ci sono più i tempi perché sai ci sono delle serie che adesso vanno in contemporanea, o quasi in contemporanea, sia in America che qui quindi a noi ci arriva il materiale da doppiare di corsa, è proprio una questione anche di canali televisivi che vogliono fare questo tipo di messa in onda, non è solo una questione, non ti sto facendo solo una questione economica cioè è proprio una questione di settore che dovendo sottostare a delle regole, piano piano si sta sgretolando un po' in vari pezzettini e dobbiamo cercare di trovare tra di noi una certa compattezza e unione di intenti per tornare insomma a quello che era non ti dico tanto, una quindicina di anni fa, è chiaro non è più concepibile tornare a quando c'erano gli anelli con la pellicola che facevi 4, 5, 6 anelli a turno, però si può secondo me migliorare qualcosina per cercare di far venire tutto un po' meglio con più tempo per la qualità e anche per i tempi umani, perché noi a volte siamo delle macchine sputa parole cioè ci mettono lì, dobbiamo fare un tot di righe, un tot di anelli, è brutto da dire, però è così tu sei lì, sei completamente alienato, non sai neanche cosa stai dicendo a chi e perché spesso dietro di te purtroppo, sempre più spesso non ci sono persone che ti riescono ad aiutare nel migliore dei modi perché anche in questo, insomma, le competenze di tutti, me compreso, attori compresi, cioè io ci metto insieme tutti le competenze di tutti stanno calando sotto la crisi, sotto queste pressioni, esatto quindi io spero che nei prossimi anni si possa risalire un po' per tornare a fare un doppiaggio non solo dignitoso come adesso, ma superbo come era un tempo e quindi dove nessuno aveva niente da ridire Noi nel sito sicuramente, insomma, e con altri anche, facciamo il possibile per riunire un po' i doppiatori sotto la bandiera e d'altra parte anche per far conoscere le problematiche di un settore che è stato così nell'ombra forse anche troppo da una parte, per cui adesso si conosce poco e niente tra la gente comune quindi c'è anche magari a volte delle incomprensioni o delle disillusioni verso il settore quindi da una parte alimentiamo l'informazione e dall'altra più possibile compattezza di voi doppiatori Bene, bene, sì, infatti ci serve anche uno strumento del genere divulgativo per cercare di creare questa compattezza Bene, sono molto contento di questa vostra iniziativa Bene, allora ringraziamo anche te per il contributo al sito e a questo punto, insomma, buon lavoro e alle prossime occasioni Grazie, ci saranno sicuramente altre occasioni grazie mille della vostra disponibilità e ragazzi continuate a sostenere questo sito per tutti i doppiatori e anche per tutti i fan